a da sparato tannos ma non si riusciva un cavo ci hanno riuscito un'accia mettersi coso un senato so io mi metto davanti sì 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 ma sta alla finestra qua giù ma ti chissero non mi sento la cosa pure nella finestra qua non c'è la finestra? ah no, non c'è la finestra no, non c'è la finestra ma tu hai messo la cosa pure nella finestra è qua, non c'è, non c'è la finestra ah no, non c'è la finestra purissimo che hai fatto ma sto guardando cazzo 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 sofia sopra oh entrata no ma c'è pure gridlock c'è pure gridlock c'è pure gridlock eh là sono c'è, sono pescato oh, sta entrando qualcuno da qua dentro, da là da là, da là, da là da là, da là, da là cazzo che cazzo fai andrea no non lo busciare a questo marco vedi che dovrebbe andarti da quel, ma che devietta fuck da là, da là, da quella porta o la finestra a sinistra tanto c'è le gu quindi sai dove sta non ti ricordo ma ancora mi sei gu allora ti dico se ti è entrata la finestra a sinistra ok questa qua a destra dove dici questa qua sta qua dove dove nell'altra bomba nell'altra bomba nell'altra bomba ha preso il gu se lo sta allevando o se lo è levato buco mi è tratto non mi è giocare guarda 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 Michele stiamo stiamo lanciando stiamo lanciando stiamo lanciando moca assoluta stiamo lanciando mi dai il tempo Mannaggia! Ma se siete nella pia a morire? Ma cosa vorrei? Cosa cazzo di andare? Lo pegli da dietro! Lo pegli da dietro! Ti fa il giro! È la porta aperta! Il corridoio è stato creato per fare tutto! Ma non ho il tempo! Ma cosa sei dentro che mori? Cosa cazzo vuoi da me? Tu non lo vorrei a te, non lo vorrei! Tu manca sparato! Aspetta zitto! Eh, che se non l'hai fatto? La fa il giro! Nel freno di cazzo! Tessina! Vaffanculo! Mamma mia! Io non posso giocare! Eh! Tessina! Allora, io voglio vedere! Chi sa che li vanno sempre su io? Ma che si può strunzare? Ma che abbandona a fare? Vedete le bove! C'è tutto il cazzo! Ahhhh! Hai vettuto tutto Nuram! Non puoi! Non puoi! Non puoi! Mamma mia! Ma deve sembrare un lucavo! Andiamo a gioco! Avete tutto il cazzo! c'è mamma mia ma perché non c'è ehi ascolta non è così difficile sala dei treni tu riesci da questa volta ma sei turido non credo non riesco a fare una rostata sei turido non sarebbe bello sei turido è tutto strutturato senti, non c'è il problema senti ma come è senti ma non ti voglio sentire non ti voglio sentire ma perché non stava parlando i problemi ma non ti voglio sentire ma non ti voglio sentire ma non ti voglio sentire